E' un lavoro carino! Ma con chi? Che rumene rumene! Ma che cazzo ti prende? Hai da investire una persona? Amica, sono pinze e figli eh? Ciao ma... Io ando da scuola. Noi adesso senza volerlo. Abbiamo fatto un favore immenso Arclan dei Pantano. E' ammazzato un infame. Trovate il modo per far te tra. Stai, ma hai sparato? Si, si. Eh? No. Si è bacia solo eh? No, è morto un amico. A che gente conosco? Ciao oggi. Ciao. A me, ma perché invece le sta sempre con Manolo? Stai un po' con tua madre. Sapemo tutto l'uno dell'altro. Mi dici che cazzo è successo? Ma che t'hanno fatto per state così sul cazzo? I giovani devono poter sognare. Nooo! Ci pensiamo a quasi, ragazzi. Avvorti. Strano, eh? A zero a mille, così. Boo! A zero a mille. A zero a mille. Ciao a tutti! E anche voi che erbile.